Sarà un campionato di eccellenza grandi firme quello che si disputerà dal 15 settembre. Continuano infatti i colpi di mercato del palazzolo calcio del patron Graziano Cutrufo che si è assicurato le prestazioni del porterone Virgilio Vitale che nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione del Biancavilla in Serie D. A vestire la maglia giallo-verde saranno anche l'attaccante Alessandro Codagnone, messinese classe 1997 che ha giocato con il Football Club Messina, l'esterno Sebastiano Pandolfo classe 2000 che rientra dal prestito al Real Siracusa e l'attaccante calabrese di Siderno Gionis Coris. Coris ha sempre realizzato rete in doppia cifra nei tornei di Serie D ma ha giocato anche in Serie B con la maglia della regina. Nell'ultima stagione con il Corigliano Coris ha fatto coppia con il bomber Ciccio Piemontese ed entrambi hanno realizzato con assist decisivi 43 reti. Con questi nuovi acquisti, che a breve saranno seguiti da altri colpi di mercato, il Palazzolo Calcio vuole essere una delle squadre più forti del campionato di eccellenza Girone B.